Benvenuti su TG7 Basilicata. Nella giornata di ieri, martedì 27 ottobre, sono stati processati in Basilicata 1.452 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 161 sono risultati positivi, 120 lucani. Le positività riscontrate riguardano le 38 persone residenti in Puglia e diagnosticate in Basilicata. Due persone residenti in Veneto e l'inisolamento, un residente in Campania e l'inisolamento, tre di Accettura, uno di Aliano, quattro di Avigliano, uno di Banzi, uno Bernalda, uno Calciano, due Castelluccio, due Roccanova, due Corletto, due Ferrandina, uno Garaguso, 10 Genzano, uno Grassano, uno Irsina, due Lago Negro, uno Latronico, tre Lauria, di cui uno in isolamento nel comune di Praia Mare, uno Lavello, uno Sasso di Castalda, 18 Matera, tre Melfi, due Moliterno, uno Montemilone, due Montescaglioso, uno Muro Lucano, uno Novasiri, due Palazzo, due Pesco Pagano, quattro Picerno, sei Pietragalla, uno Pignole in isolamento a Potenza, 19 a Potenza, due Rio Nero, uno Ruoti in isolamento ad Avigliano, uno Salandra, uno Sanfele, un San Martino d'Agri, uno Spinoso, uno Stigliano, uno Tramutola, cinque Tricarico, uno Tursi, uno Venosa, uno residente in Puglia in isolamento a Matera, un residente in Lazio in isolamento a Matera. Nella stessa giornata sono state registrate nove guarigioni, di cui una Vigiano, una Marsico Vetere, uno Lauria, quattro Pesco Pagano, uno Paterno, uno Rio Nero. Nella giornata in esame risultano decedute numero tre persone, uno Sarconi, uno Marsico Nuovo, uno Roccanova.